Fino ad ora c'è l'acqua, normale, senza il recipiente. Io ogni tanto il recipiente lo cambio perché chissà manca l'acqua, magari per fare lo straccio, non per bere, per bere no. Una ci mette quelle delle bottiglie, no no. Fino ad ora c'è l'acqua, mi stavo davanti perciò c'è l'acqua. No no, normale, fino ad ora. Stamattina ancora l'acqua è in distribuzione. Sappiamo che dalle 8 doveva essere interrotto il servizio di fornitura. Io abito in una palazzina di via San Giorgi dove però abbiamo dei serbatoi, poco capienti ovviamente. Domani dovrebbe essere ripristinata l'acqua, però fino adesso non abbiamo avuto nessun disagio. Sappiamo che quanto prima dovrebbe essere interrotto il servizio di fornitura.